Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su GTA Online In mia compagnia ci sono dei bellissimi e scorrettissimi ospiti Ovvero amici E Zektor, esplode tutto? Meteoriti Zektor vabbè, non so se ha salutato Poi c'è appunto Raider di Flight Inside Che sta succedendo? Sto esplodendo quasi E poi c'è Klaus amici miei Ciao Siamo prontissimi per partire, io sono in fiamme Non so dove sia possibile che sia ancora in vita Ma io stavo controllando i commenti di annunci lol Raider ma dove dobbiamo andare qua? Per dove dobbiamo andare? Io ti seguo Mi segui ma mi inculi pure però Per la storia Pepponello si conferma il più scorretto del mondo Ma perché dite questo di me? Assurdo Ma non è vero nulla Dopo E Zektor e Klaus e me Klaus? Hai la faccia talmente tosta Da dire anche Klaus No ragazzi Sfida aperta Quanto scommettete che EZektor Non sa cosa vuol dire EZektor in inglese? È vero Sì ma nessuno lo sa cosa vuol dire Ragazzi scriveteci nei commenti Cosa vuol dire EZektor in inglese Vediamo se qualcuno di voi lo sa Forza Sfida è cosa bisogna fare Ce l'ho fatta Ce l'ho guarda no Che cosa sei fatto? Sfida ce l'ha Chi non ce la fa Deve bere un bicchierino di aceto Dai per farlo vedere anche nel video Ditemi che cazzo devo fare Allora Tu quale macchina sei in Giallo o la bianca? Che cazzo cambia? Che macchina No ragazzi Non è arrivato Non è possibile Rimarrà sempre un mistero per noi Capire come si arriva Ecco ragazzi che partiamo con la seconda gara questa volta Con le BMX addirittura Che fane tutti Ma che è Klaus ragazzi Klaus Stroller ragazzi No no è stato Joseph Ma come si stavo parlando Sono in facecam Oh perché Rai teniamo avanti? Non lo so ma poi non si è mosso più Cosa è stato? No vabbè ragazzi Adesso vediamo quello che succede Perché si muove una femminucina Ragazzi mi si è buggata la bicicletta Mi saltava adesso Questo capita che è scorretto L'ho detto a mio cugino TAC Ragazzi Spostati Zektor Fatti da parte Siccome però sono sportivo Vi auguro la morte nella vita reale Ma come? Si mi fermo ragazzi Joseph come si salta? Eh non lo so Io non so saltato più in allora Eh ho capito però Vabbè ragazzi Io esco Come io esco? Guardali ragazzi È Zektor che non riesce a salire Tra l'altro mio personaggio Sto cercando di scendere dalla bicicletta No non scendere Pedala Eccolo che arriva lui Ti sto aspettando Così ragazzi Non dicono che sono stati Che ha fatto? Guardalo Klaus che arriva Se arriva Klaus Allora io vado No No Come si frena? No 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 Come uno stupido No Oltre il danno la berza Ragazzi Dai ragazzi Proviamo a salire Hai bestemmiato? Ma come ho bestemmiato? Ma bestemmiato? Ma bestemmiato? Ha bestemmiato? Mi ha aggiunta la madonna Ma chi è bestemmiato? Guarda ragazzi Ma io qua sto giocando che è una meraviglia Klaus Guarda guarda Dove sono tutti? Sono tutti Non li vedo nemmeno Guarda Klaus che cazzo Guarda che c'era tira Poverino Guardalo Klaus Klaus è il mio canale preferito Anche senza video Da oggi Joseph comunque ti dico un proverbio Ride bene Chi ride ultimo E ricordati sto proverbio Bello Ricordati sto proverbio Bello Perché muore? Stai arrivando No Klaus è arrivato primo No Raga Klaus è arrivato primo Non ci credo Una volta sono morto Nella bicicletta Ve lo dico Nella bicicletta? Nella vita reale Sì sì Io sono arrivato signori Dai raga Credo di essere quasi arrivato Io finalmente È stato difficile Ma ce la sto facendo Ah devi per l'aceto eh Attenzione Raiden Con l'aceto Perché sono morto? Ragazzi il Raiden Purtroppo proprio Non ce la fa Guardatelo lì Ma Raiden si sa Che è bravo in altre macchine È bravo con la macchina Non è bravo con la bicicletta È vero Vabbè infatti è da mentre Quindi ragazzi Sono arrivato secondo E ora amici miei Affronteremo l'ultima sfida Andiamo a vedere di che Non c'è l'ultima sfida Ma come? Non so tre gare Sì E allora? Ragazzi ed eccoci qui L'ultima sfida Stiamo per partire Pronto? A quanto male Zektor non c'è Non sappiamo che fine Abbia fatto Comunque ragazzi Adesso andiamo Vediamo quello che succede Attenzione E si parte Go Si va Bella Raiden subito si mette Ma come sei primo Ragazzi Non sappiamo che fine Abbia fatto Zektor Mamma mia Guarda Attenzione No non ci sono arrivato Perché? Serviva il turbo Adesso perché non ci sono arrivato Attacca Clash Guarda guarda Ma com'è attacco Clash? No attacca tu Attacca tu Attacca attacca Dai ragazzi Ragazzi Io nel frattempo sto rispondendo ai commenti Ma come? Ma perché? Dobbiamo morire Ma come dobbiamo morire? Eh beh prima o poi Istinti suicidi da parte di Raiden Ragazzi Dai dai La velocità incide ragazzi Ma no La velocità incide Vai Vai che ci arrivo Ci sto arrivando Ci sto arrivando Scendi dalla moto Fai qualcosa Eeeh Ho capito Ti ha dato le cose I tracciati Chi li ha messi Chi li ha fatti questi tracciati? Klaus Giusto? Quelli per incontri Si abbassa la testa Quando lo fai Abbassa la testa Così Prendi più velocità Ma è vero È vero ragà Quello che ha detto Ci stavo arrivando Ma il cazzo Ma io che direttivo cazzate io Ci sono arrivato ragazzi Ho preso il checkpoint Mamma mia ragà Klaus Il più corretto su YouTube Klaus Docet Klaus Docet Sul serio Ragazzi Che poi io sento Sto parlo in latino Da domani Ma non so ancora Il cazzo per dire Dai ragazzi Eccomi che sono arrivato In prima posizione Joseph Gamer Ma che ce la faccio L'hai preso? No Non lo prenderò mai Ragazzi Ascoltate Ascoltate vere rime Da rap Amore cuore Cane pane Gatto Esatto Madonna mia ragazzi Mamma mia ragazzi E dopo di che me la potete E dopo di che me la potete sucare Assurdo Finalmente il checkpoint E' stato preso Quel vaso E' stato portato in salvo Ragazzi Almeno quel checkpoint Li vediamo adesso Che succede Oh ma il cazzo Perché Zektorride così No l'ho preso il checkpoint Però bene bene Dai raga Credo ormai di esserci arrivato Finalmente Ce l'ho fatta E varco il traguardo Dai ragazzi Sono arrivato secondo Abbiamo avuto un bordello Di difficoltà Per finire sta gara Come vedete 20 minuti Solo questa Quindi amici miei Io vi saluto Mi raccomando Spolliciate Lasciate un bel mi piace Ricordate di passare Anche nei canali Di tutti gli altri Che vi lascio in descrizione E alla prossima Ciao